Siamo con Mauro Valenti della sede della fondazione Arezzo Wave, allora il comunicato di oggi ha messo in subbuglio tutti, già arrivano le prime reazioni, cosa è successo? Soprattutto non si farà Arezzo Wave ad Arezzo? Certo, non si farà Arezzo Wave ad Arezzo perché da soli, come si è scritto, non si può ballare da soli, bisogna essere in due. Non abbiamo mai avuto nessun tipo di risposta da parte dell'amministrazione comunale. Questa è una canzone da Inegrita però, nessuna risposta? Ah, questo va bene, siamo sul rock, quindi ci sta. E quindi abbiamo tirato le somme, se nessuno vuol capire qual è il nostro progetto, se nessuno si vuol mettere a un tavolo per ragionare su cosa fare da grandi, ci tiriamo in giro. Giustamente dice che questa non è un'operazione che si può fare dalla sera alla mattina, deve essere programmata, però non c'è stato un passo concreto. Non c'è stato nessun tipo di interesse alla fine, diciamo che noi ci siamo visti a settembre, si è detto entro novembre, vorremmo capire se credete in questo progetto, e quindi in questo progetto in cui si coinvolge tutta la città, in cui si fa quello che si è fatto quest'anno. Nonostante Arezzo e Winter? No, Arezzo e Winter proprio, nonostante Arezzo e Winter, e quindi si è tirato le conclusioni, che non si può fare una cosa se non c'è una condivisione di tutti i soggetti che rappresentano il territorio. Lei è consapevole che adesso la finanza locale, c'è la spedia di review e tutto quello che ne consegue? Io sono consapevole, come ho scritto, ci sono stati altri tipi di investimenti su altri progetti che hanno portato notevoli risorse economiche, quindi se uno pensava che Arezzo Wave fosse importante si poteva spendere istituzionalmente, ma dato che non ho mai avuto la possibilità di ragionare su questo, abbiamo chiesto in mesi e mesi appuntamenti con il sindaco, abbiamo parlato con qualche assessore, che però alla fine è stata abbastanza scivolosa la situazione, non abbiamo avuto nessun tipo di concretezza e quindi abbiamo tratto le conclusioni.